Siete pronti per il Carnevale? Se qualcuno non è ancora entrato nell'ottica di festeggiare, domenica 9 marzo non potrà farne a meno. E già perché a Mantua è prevista una grande sfilata di Carnevale. Oltre 2.000 figuranti e 35 gruppi provenienti da 12 regioni d'Italia sfileranno per le vie del centro storico. Un ritorno alla tradizione, dopo anni che questa tradizione era stata un pochino accantonata, anzi abolita nella città di Mantua. Un ritorno ad una manifestazione molto cara ai bambini, alle famiglie, ma per il taglio che avrà quest'anno, per la qualità dei gruppi che sono in pista, una manifestazione che sarà gradita anche dagli adulti. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Comunali Oggi e avrà come protagonista la corte di Red Rigol per sottolineare l'attenzione sulla salvaguarda dei laghi Mantovani. Due cortei per la città, con sbandieratori, artisti di strada, gruppi folk e maschere provenienti da moltissime città italiane. Speriamo solo nel bel tempo, perché veramente è una manifestazione di grande livello che attraverserà con una sfilata il centro storico, partendo da Piazza Castello, Piazza Sordello, per arrivare al sociale e per poi rientrare da Piazza Erbe, dove c'è il palco delle premiazioni. Siamo sicuri che sarà una giornata veramente di grande divertimento, sia per i nostri concittadini che per tutte quelle persone che decideranno in quel giorno di venire a Mantovada fuori. Al termine della sfilata, l'assegnazione del trofeo del Trigol. Come lo scorso anno, anche questa edizione avrà uno scopo benefico. In Piazza Erbe, vicino al palco, ci sarà un gazebo per raccogliere fondi. Il ricavato quest'anno andrà a una bambina di sei anni di Verona. Quest'anno abbiamo dedicato, cioè mi sono preso cuore soprattutto in modo personale di una bambina che si chiama Beatrice, che ha un morbo purtroppo raro e per la quale ovviamente ci siamo messi a disposizione con il nostro gazebo in Piazza Erbe per la raccolta di fondi, per una operazione che dovrà tenersi in America e per la quale gli auguriamo tutti e mi auguro anche da parte mia e da tutti una pronta guarigione. L'appuntamento quindi per domenica 9 marzo in Piazza Castello a partire dalle ore 14.